CNA di ritorno dalla fiera di Istanbul, come è andata? Abbiamo avuto una collettiva con 15 aziende, 15 aziende aretine e vicentine. Per molte aziende sono soddisfatta perché diciamo che è andata abbastanza bene, hanno preso tanti contatti, anche ordini, altre benino e qualcuna forse non sono così soddisfatta come potevo immaginare. Sono propositiva perché è una fiera in crescita, in larga espansione, che si ripete due volte all'anno, a marzo e a ottobre. Ci prepariamo già per l'edizione di ottobre, che negli ultimi anni forse è quella che è più importante rispetto all'edizione di marzo. Sia un po' capovolta, come prima era gennaio, per fare un esempio, gennaio di Vicenza, adesso invece è ottobre l'edizione di Istanbul. Per quanto riguarda i mercati, da dove arrivano i buyer che cercano il Made in Italy nella fiera di Istanbul? Allora, voglio essere sincera al 100%, è mancata la parte di Russia, Uzbekistan, questi paesi dell'est. Vuoi per il rublo e vuoi anche per, politicamente adesso, Russia e Turchia non vanno molto a braccetto. Si sono visti tantissimi algerini, una cosa inaspettata, non avrei mai pensato di vederne così tanti, libanesi, siriani. Questi sono stati mercati arabi, francesi e anche inglesi. Lo dico perché ho vissuto la fiera direttamente negli stand, quindi ho aiutato anche le aziende con i clienti, quindi un supporto alla vendita e alle vendite. Ok, e tornando ad Arezzo, non si può non pensare all'imminente Oro Arezzo? Certo che sì, ci pensiamo e ci pensano anche i clienti che ci hanno dato appuntamento a Oro Arezzo. Perché magari tante aziende hanno avuto i primi contatti e si sa, prima c'è il contatto, poi ti rivedi e l'appuntamento dove sicuramente stringeranno ordini, stringeranno degli accordi anche lavorativi, è stato appunto Oro Arezzo, dove saremo presenti anche noi con un discreto numero di aziende, sono intorno a una quarantina, insomma, siamo presenti anche lì. E con buone prospettive quindi? Sì, indubbiamente sì, Oro Arezzo con la nuova gestione, grazie anche con l'accordo che ha fatto con Vicenza, puntano tantissimo all'incoming dei nuovi clienti e il consolidamento dei clienti che ormai sono abituati e sono dei nostri followers da anni.